Vediamo insieme cosa sta per succedere a te entro un paio di giorni. Iniziamo a chiederlo all'Elena Armand. Il taglio ci parla di qualcuno che frequenti abitualmente, che negli ultimi tempi ha assunto un atteggiamento che ti suona strano. Il suo modo di fare ti sembra poco naturale e con dei toni d'andulatore. Il tuo sesto senso non sbaglia, perché questa persona non ti ha riferito una cosa importante, anzi, si è proprio dimenticata di farlo, e adesso ha paura che tu lo scopri che ti arrabbi. Potrebbe essere un messaggio da parte di qualcuno che ti interessa, o una notizia che la riguarda, ma anche una comunicazione di soldi in arrivo, o un'opportunità di lavoro. Per fortuna entro qualche giorno il mistero cadrà, perché questa persona fa troppa fatica a mantenere nascosto il guaio che ha fatto. Non preoccuparti, sei ancora in tempo per rimediare. Tutto si risolverà, per fortuna molto in fretta, e non avrai proprio voglia di arrabbiarti. Goditi questa bella notizia, anche se in ritardo.